In Vicenza la squadra sembrava quasi avere meno fame rispetto all'avversaria, d'accordo con questa lettura? Sì, sono d'accordo. Nonostante tutta la settimana abbiamo detto certe cose che poi in partita non le abbiamo fatte, perché è detto quanto nell'intensità, nelle distanze, nell'essere presenti non eravamo quelle di tante altre volte. Una doppia sfida casalinga adesso per chiudere definitivamente il conto salvezza? Bisogna fallire ovviamente. Bisogna fallire, per non fallire devi fare le prestazioni che facciamo noi, poi non esiste la certezza matematica su niente. Se non è fatto è che bisogna fare di tutto per vincere. Abbiamo due scontri diretti con due squadre che sono in salute, perché la prova del CERVI viene da 5 risultati utili consecutivi, pensando alla prima e pensando solo a quelle di stato per il momento e quindi bisogna fare una grande prestazione. è ipotizzabile un... è ipotizzabile un...